Sara Ligas È stata un'esperienza particolare, non ho mai fatto nulla di simile Sapevo che sicuramente sarebbe stata forte, ma non immaginavo a questo punto Perché mi sono commossa tanto e quindi ho provato un contatto, un feeling con il musicista E ogni volta che piano piano lui sfogliava gli strati interiori della mia anima Piano piano, a seconda delle sensazioni che io provavo, sentivo che immediatamente la musica cambiava, andava di pari passo Nel momento in cui tu sei seduto lì è come se rifletti sulla tua vita, la stai ripercorrendo, lui ti aiuta a ripercorrerla Nel momento di tristezza più acuto, del picco, quando mi sono commossa Lui, a parte la forza, l'intensità della musica aumentava, ma poi dopo lui ha avuto un cambiamento nella musica Che mi ha dato una spinta di ottimismo, perché la musica diventava più soffice, più allegra È come se mi incoraggiasse in quel momento, veramente è stato fantastico È come se agisse con delicatezza, entrasse in punta di piedi nella vita della persona che è davanti Lo rifarei e vorrei che le persone a cui tengo lo facessero per la prima volta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti